Il pallone che pesa come un macigno, la freddezza dagli 11 metri, la rete che regala tre punti al Berletta oltre il recupero e Matteo Di Piazza a segnare il gol decisivo contro la polisportiva Santa Maria Cilento con tanto di esultanza polemica. 2-1 il finale di un Pottilli in festa, gremito di tifosi per la prima casalinga dei Biancorossi dopo l'esordio con sconfitta di Pagani. Si avviva una reazione ed è arrivata dagli uomini di Ciro Ginestra che soffrono non poco. Al cospetto dei Campani, il tecnico Biancorosso ne cambia 5 rispetto alla prima di campionato. Caputo in campo al posto di Di Piazza, panchina per Milella, Lacassia e Venanzio, titolare a Pagani. Confermato il 3-5-2, stesso modulo scelto da Ferullo per i Campani. La prima occasione del Cilento, al quarto, Colibali trova un varco in aria e calcia, Sapri chiamato subito al salvataggio. La risposta del Berletta porta al vantaggio, dodicesimo, punizione di Marconato, Fezza non trattiene, Schelotto è il più lesto di tutti. 1-0, gol del Capitano, il primo della stagione, l'uomo simbolo del nuovo Berletta che fa esultare il Puttili. Biancorossi che al 24esimo potrebbero anche raddoppiare, ma Caputo servito in aria da Schelotto calcia debolmente. Dall'altra parte Persano trova lo spazio per la conclusione, nessun problema per Sapri. Alla mezz'ora, calcio di punizione dal limite per il Berletta, calcio a Caputo, Fezza è reattivo. Al 35esimo, pericolo in aria biancorossa con il cross di Ferrigno che non trova i compagni, uscita così così per Sapri. Al 48esimo, in pieno recupero, il numero uno del Berletta si supera sul colpo di testa di Anzillotta. Su azione da corner, a botta sicura, Sapri è abile a blindare la porta a pochi istanti dall'intervallo. La ripresa si apre con un'altra occasione per il raddoppio del Berletta. All'ottavo, ancora sui piedi di Caputo, servito bene da Ngom, l'attaccante tuttavia spreca tu per tu, Confezza. Al 13esimo, la risposta del Cilento con Anzillotta, nulla di fatto. Al 23esimo, Ginestra mette dentro di piazza per Ngom, cambio che si rivelerà decisivo. Al 25esimo, punizione per i campani, Maio manda alto. Al 27esimo, si scaldano gli animi tra le panchine in seguito ad un fallo subito da Schelotto. Scene che si chiudono con un gesto di fair play tra i due allenatori. Alla mezz'ora, il Santa Maria Cilento trova il pari, punizione di Maio, pallone in aria. Gassama arriva sulla sfera e sigla l'1-1 che gela il Puttilli. Partita di nuovo in equilibrio, il Berletta non riesce a trovare spazi per rispondere. Ma al 38esimo ci prova De Marino con un colpo di testa all'indietro, fuori misura. Al 41esimo, occasionissima per i biancorossi, punizione di Marconato che trova la testa di Schelotto. Fezza è strepitoso nella deviazione. Match che sembra destinato al pareggio, ma al 51esimo Di Piazza viene atterrato in aria da Fezza. Calcio di rigore per il Barletta e cartellino rosso per l'estremo difensore. Di Piazza si prende il pallone, il Cilento fa entrare il portiere di riserva a guerra. La sfida dagli 11 metri la vince l'attaccante biancorosso. Portiere spiazzato ed esultanza forte, polemica, che certamente non passerà inosservata. Triplice fischio e vittoria per il Barletta, che trova i primi tre punti davanti al proprio pubblico, con sofferenza, ma resta un successo pesante per il Morale e la classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di Ginestra saranno ancora di scena al Puttili contro il Gallipoli, seconda sconfitta consecutiva per il Cilento, che proverà a cercare la prima gioia stagionale tra le mura amiche contro Bitonto.